Benvenuti a tutti oggi vediamo la Relays 2023.1 Preview di Twinmotion successivamente poi ci sarà una Relays 2023.2 come è diciamo nella prassi di questo software quindi vedete preview 1 lo lanciamo la prima volta che lanciamo il programma si apre una finestra che si chiama home una finestra che è visibile in startup quindi se disattivo questo elemento non sarà più visibile in startup quando si avvia il programma e abbiamo delle scene che sono dei template già pronte nella prima area abbiamo 1 2 3 4 qui c'è una freccina per scaricarle perché si scaricano io le ho già scaricate quindi la freccina è stata sostituita dalla voce di open queste sono tutte raggruppate insieme se le vogliamo vedere invece in modo univoco per quanto riguarda l'argomentazione in questo caso avremo architettura prodotti invece abbiamo prodotto per quanto riguarda appunto la borsa le scarpe e questo studio fotografico in all template ne abbiamo tutte quante noi possiamo aprire una di queste o dire ad esempio pensine e andare a caricare una scena che abbiamo salvato precedentemente o possiamo dire news in entrare all'interno appunto del programma di twin motion e se vogliamo ritornare all'interno di quel pannello si chiama show home panel questo è il pannello